Oggi rispondiamo alla domanda che è stata fatta nei commenti da parte di Hel Lo Cono Zero in fondo che dice I videogiochi sono haram? Scopriamolo subito in questo video. Assalamu alaikum, io sono Karim di Radicati nella Scienza e benvenuti a questo nuovo video che è un video di Radicati nella Sentenza perché parliamo di cose più giuridiche e quindi capiamo, dobbiamo capire se il gioco, se i videogiochi sono haram oppure no. Poniamoci innanzitutto una domanda, l'Islam proibisce il gioco, il divertimento e lo svago? La risposta è assolutamente no, anzi non si può sempre rimanere seri, sempre rimanere al lavoro, sempre rimanere sullo studio, ci vuole anche un po' di svago perché altrimenti l'anima si annoia, diventa tutto più faticoso, invece con dei tratti in cui si stacca un po' da quello che è la normalità, ci si svaga un pochino, questo diciamo fa tranquillizzare di più l'anima e rilassa di più l'anima e non la fa annoiare perché rimanendo sempre seri ci si annoia. Come disse il profeta, c'è un'ora e c'è un'ora, ossia c'è un'ora per rimanere seri, per le preghiere, per lo studio e tutto quanto, poi c'è un'ora per ridere, scherzare, essere meno seri e svagarsi. Quindi il gioco e lo svago sono una cosa che di base nell'Islam è assolutamente permessa, a patto che siano due condizioni, il primo che non ci si svaghi, che non ci si diverta con un qualcosa di haram, non è possibile diciamo divertirsi con un qualcosa di haram, ci si può divertire, svagare con tante cose che sono halal, perché andare a cercare cose haram, perché? Perché? Allah subhanAllah non ha posto nulla di gravoso nella nostra religione e ci si può ridere, scherzare, senza parlare male, parlare male di altri, insultare qualcuno, dire brutte parole. Insomma nel halal c'è tanto e non c'è tanto che non ci serve neanche stare a cercare il haram. Poi la seconda cosa che ovviamente non, che questo gioco e svago abbia un tempo limitato, è che non occupi spazio alle cose obbligatorie, non si può stare lì a giocare, intanto la preghiera e la moschea la lasci, le preghiere le unisci assieme, o le salti proprio perché ti devi giocare, ti devi svagare, no? Per cui deve essere, il gioco e lo svago deve essere halal, in un caso di halal, e deve avere un tempo chiaramente limitato e che non distragga da ciò che è obbligatorio nella religione, come le preghiere. Qua stiamo, in questo video stiamo prendendo in esame i videogiochi. Videogiochi sono anch'essi gioco e svago, quindi il loro giudizio di base è che è Mubah, però attenzione bene, qua vi voglio attenti, perché quando diciamo Mubah è come se intendessimo tipo un bicchiere vuoto, il bicchiere in senno è Mubah, però se tu dentro quel bicchiere lì ci versi dell'alcol, quel bicchiere lì non va bene, è come una sorta di televisione, la puoi usare per guardare cose buone e la puoi usare per guardare cose che sono haram, e se la usi per guardare cose haram, la tv diventa anch'essa haram. Anche con questo intendiamo il gioco, il gioco è una cosa di generale, non si può dire halal o haram perché ci sono giochi buoni, halal, Mubah e ci sono giochi invece haram, su questo dobbiamo essere d'accordo, non tutti i giochi sono permessi, su questo dobbiamo essere d'accordo. In questo gioco non ci devono essere foto haram, foto in cui si vede l'aura, le parti intime, le parti che si devono coprire, niente, non ci deve essere gioco d'azzardo, non si devono spendere denaro, non si devono vedere, non deve contenere contenuti sessuali, contenuti sessuali, non deve contenere brutte parole, e non ci deve essere niente di, diciamo, contrario al credo religioso dell'Islam. Se in un gioco è previsto che bisogna prostrarsi a una statua, a un idolo, chiaramente quel gioco lì è haram, perché contraddice il tuo credo, tu credi a Allah subhanahu wa ta'ala, l'unico, non ha senso prostrarsi in un gioco a degli idoli, anche se tu chiaramente non lo fai te in persona, ma lo fa un avatar, un personaggio virtuale, non è un gioco buono, non è soprattutto un gioco adatto a bambini, che devono ancora imparare il credo islamico, perché poi quelle cose li vanno nel subconscio, oppure addirittura giochi in cui si deve combattere il Dio, si deve combattere gli angeli, raffigurati anche come cattivi, quindi tu lo uccidi o lui ti uccide, chiaramente queste cose qua sono haram, quindi questi giochi qua, dobbiamo essere d'accordo che sono haram. Poi un'altra, poi la musica, se c'è della musica, magari abbassate il volume, togliete il volume, poi soprattutto i giochi di oggi, ma anche i film, purtroppo educano alla violenza e al crimine. Oggi appunto si insegna nelle scuole che la violenza è una cosa brutta, la violenza è una cosa che non va bene, che non bisogna essere violenti, tuttavia ci sono tanti film, ci sono tanti videogiochi che invece fanno vedere la violenza come una cosa di positivo, quindi il giovane ha questi due messaggi contrari, da uno è la società che dice che la violenza non va bene, dall'altro i videogiochi, le serie tv, i film fanno vedere la violenza come una cosa di bello, da uomini, che è il più violento, il più forte e il migliore, per cui quei videogiochi contengono violenza, diciamo, dobbiamo essere d'accordo che non sono videogiochi educativi, nei videogiochi, e poi chiaramente ci sono tanti, tanti aspetti negativi nei videogiochi che non possiamo trascurare, ci sono videogiochi che possono portare addirittura al suicidio, oppure all'omicidio, per esempio mi viene in mente l'episodio che è successo qualche anno fa nel Connecticut, che è un giovane ragazzo andato a scuola, ovviamente in America, con una pistola, e ha fatto strage di studenti e insegnanti nella sua scuola, questo ragazzo qua, perché ha fatto quel comportamento lì, che abbastanza, appunto dai videogiochi, perché nei videogiochi si insegna che la violenza è una cosa di bello, eccetera eccetera, quindi la violenza è una cosa che andrebbe, diciamo, evitata. Un'altra cosa appunto che dobbiamo vedere in questi videogiochi è la questione della gestione del tempo, per prima cosa, il giocare a questi videogiochi non deve distrarre dall'obbligo, non si può stare a giocare e non fare la preghiera, non si può, non si può stare a giocare e tralasciare l'obbligo, quello che dovresti fare, che può essere lavoro, studio, o quello che è. Inoltre bisogna ricordare le parole del profeta, sallallahu alaihi wasallam, che disse, due doni di cui tantissime persone non si preoccupano, che lasciano quindi perdere, che trascurano, che sono il dono della forza, della salute, e il dono del tempo libero. se tu, caro fratello, stai lì tutto il giorno, a giocare a questi videogames, cioè, passi, la tua, tutta la tua salute, la tua salute ne risente, e poi il tempo libero lo butti via, lo prendi e lo butti via. E sappi che ti sarà chiesta della tua vita in generale, dove l'hai trascorsa, e della tua giovinezza in particolare. Che disse il profeta, sallallahu alaihi wasallam, il piede di Adamo non si muoverà il giorno del giudizio, se non dopo che gli si verrà fatte quattro domande. Le prime due sono circa la vita in generale, dove l'hai trascorsa, e della tua giovinezza. Dove l'hai trascorsa? Come l'hai passata la tua giovinezza? Vuoi davvero passarla tutta nei videogames? Poi un'altra questione, la questione della dopamina. Ovviamente i giochi, perché la gente gioca con questi videogiochi? Perché rilasciano, appunto, quando si gioca con questi giochi, il cervello rilascia una sostanza chiamata dopamina, che è l'ormone della felicità, del piacere. Quindi tu quando giochi con questi videogiochi, sali di livello, eccetera, vinci, succede che sei felice, provi felicità, ti diverti, ti diverti. Quindi se tu prendi la tua dose di dopamina da questi videogiochi, come farai poi a prenderla nello studio, o nel lavoro, o nella lettura del Corano, nello studio, memorizzazione del Corano? Perché? Il tuo cervello ti dirà, ma perché mi devi togliere la dopamina, e andare a fare un'altra attività, che non ne rilascia altrettanta. Perché? Perché? Se tu stai già bene giocando ai videogames, perché appunto dovresti poi levarti di lì e andare a studiare, andare a fare quello che devi fare? Perché? Giustamente. La cosa saggia sarebbe proprio evitare questa, evitare di prendere dopamina dai videogiochi, perché se tu eviti di prendere la dopamina dai videogiochi, inizierai a, che è una dopamina diciamo alta, inizierai a prenderla dalle cose che, inizierai a prendere da cose che prima magari non ti divertivano, magari tipo leggere, studiare, studiare, leggere il Corano, inizierai a prendere da queste cose qua, la dopamina, inizierai a divertirti, se invece tu prendi tutto il tuo divertimento da questi videogames che sono fatti apposta per stimolare appunto la dopamina, così come social network, ti rovini, perché è come un drogato, perché la gente si droga, perché dà una forte carica di dopamina, e quindi ne rivuole sempre di più, e anche le cose normali, ma che ci fanno divertire a noi, non fanno divertire il cocainomani, perché lui per divertirsi ha bisogno della grande quantità di dopamina, perché ha sviluppato una resistenza, e quindi caro fratello anche tu per non cedere con queste dosi della dopamina, è meglio che cerchi di levare appunto o almeno diminuire, o almeno dire se sei molto disciplinato, almeno da dire guardo dopo che ho finito di fare quello che devo fare, dopo che ho letto il corano, dopo che ho fatto quello che devo fare, mi metto lì dieci minuti, venti minuti, gioco, così basta, e chiudo. se ovviamente il gioco è halal, è mubah, qua stiamo parlando se il gioco è mubah, non se è haram, se è haram non lo si apre, lo si disinstalla, lo si prende, lo si butta via, punto e basta, non ci sono altre vie, e ricordati caro fratello, gentilissima sorella, di ciò che disse il profeta sallallahu alaihi wa sallam ad Ibn Abbas, atteniti a ciò che ti è più utile. In un mondo in cui l'uomo moderno è tempestato dalla tempesta, noi speriamo di essere radicati alla scienza, grazie, ma assalam, mettete like, condividete, fate commentate, fatemi sapere la vostra opinione, e noi ci rivediamo al prossimo video, citatemi bene, ma assalam. Grazie a tutti.